buongiorno e buona domenica a tutti sembra che oggi la giornata sia perfetta qui sembra nuvolosa ma con sole mi sto facendo una passeggiata per farvi sto video della domenica mattina quindi non faccio tanto perché tanti minuti poi non li vedete 10 minuti 8 minuti non li vedete quindi piccoli video ma buoni se vi piacciono madre mia se brucio sto sole ragazzi sta caliente io mi sto riprendendo poco poco con sto cazzo di raffreddore giriamoci vediamo questa settimana partiranno tutti e parleranno via gli altri speriamo il carnevale stasera termina qua e all'oliva il prossimo sabato termina proprio può farne un mese di carnevale in tutte le isole speriamo che dura sta giornata così col sole chi lo sa comunque penso che è passata la tempesta che c'era prima questo è sicuro siamo pieni di inglese ragazzi inglese irlandese italiane francese alemane c'era di tutto guardate la gente che sta uscendo dalle case in questo viale dai residence voglio dire pure case quanto pare è pieno quanto pare pieno questo è il pezzetto che avevano fatto che era iniziato i lavori su sette mesi fa otti mesi fa finiti pieno di gente dentro ok ragazzi io vado a casa vi cade questo video vi auguro una buona domenica a tutti e speriamo in bene in todos la cove della guerra speriamo bene ciao ragazzo a domani è un piacea ciao 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 ciao